buongiorno a tutti oggi mi sono portato l'attrezzatura nel bosco perché non pensavo onestamente che avrei filmato qualcosa sul telefono siamo maggio 2022 e ne ho già visti uno piccolo piccolo un altro un po' più grande ma sempre piccolo che al limite dopo ripasso e lo rifilmo che non l'ho filmato adesso anche questo è piccolo però iniziano ad uscire piovuto abbondantemente quindi in settimana ci dà la sole c'è la possibilità che prossimo weekend inizieremo a divertirci speriamo bello un piccolo pinofilos vabbè speriamo a dopo eccoci di nuovo qua qui intanto c'è una formica che sta non so se la vedete sta lentamente uccidendo una larva di falena che era appena uscita che cose strane che si vedono nel bosco e qui guardate questo stava mettendo la testa fuori stanotte è passato il topo che sarebbe già belle che mangiato peccato un vero peccato e lì dietro non so se si vede questo puntino bianco e un altro che sta uscendo dai dai forse si pronuncia una piccola buttata e allora incrociamo le dita e speriamo a dopo qui questo qui è quello che abbiamo fatto vedere rosicchiato guardate qua guardate che roba che sta uscendo qui andate la famigliora guardate che roba penso poi li ricopriamo e li lasciamo lì oh si si sto facendo una bella bella buttata dai dai incrociamo le dita a dopo eccoci qua sto scendendo sono ripassato dove avevo visto quell'altro la piccola eccolo qui vedete sono ancora piccolini dobbiamo andargli una settimana più o meno per il boom però sono molto molto fiducioso diciamo che vederne è una visto una decina più o meno di piccoli è assolutamente un buon segno essendo che siamo in principio di maggio e con questo vi saluto vi auguro una buona settimana e speriamo che il prossimo video poi che caricherà dopo di questo sarà ricco di ritrovamenti un saluto grazie a tutti